Il mio piatto di oggi sarà gnocchettini di ricotta con crema di borragine capoliato e mollica tostata. L'ingrediente principale della nostra ricetta è la borragine che è un'erba spontanea che nasce in questo periodo e noi la raccogliamo nei nostri occhi. Va lavorata prendendo tutte le foglie migliori, va precedentemente bollita e poi macinata e la nostra crema di borragine è pronta. Poi passiamo all'ognocco di ricotta. Lavoriamo la ricotta in planetaria, la mettiamo dentro un sacco appoggi e facciamo delle piccole palline che poi vanno passate nella farina di semola. Successivamente andiamo a preparare la mollica, facciamo un soffritto di aglio, capperi e acciughe. Mettiamo la mollica, la facciamo toltare e la nostra mollica è pronta. Per cucinare l'ognocco va semplicemente bollito e poi andiamo all'imbiattamento. Alla prossima! Un'altra prossima! Grazie a tutti.